Al centro della difesa rossonera, calmo e solido, riferimento del gruppo, dici Simon Kier e vedi una parabola in alto, quella che ha portato il danese in meno di due anni ad essere punto di forza, elemento indispensabile, modello per un gruppo giovane che ha bisogno di certezze. Il secondo posto della scorsa stagione è la spinta per ambizioni più alte quest'anno, obiettivo lo scudetto. Creiamo al 100%, io non ho dubbi su quello. Se tu non hai la forza o il coraggio per avere i sogni, guardate in avanti, obiettivo è là, mi c'è mai. Siamo più forti, siamo più marturati dell'anno scorso e abbiamo una fame che non è facile da trovare. Nella lista dei 30 per il pallone d'oro Kier è uno dei difensori più forti d'Europa. Da capitano ha portato la Danimarca in semifinale agli europei, ma del suo torneo rimane indelebile il ricordo targato 12 giugno, la sequenza rapida in cui salva la vita Eriksen collassato in campo, intervento di cui con modestia non si prende meriti. Non ho salvato una vita, ho dato una mano come tutti i miei compagni di squadra, mi ha fatto crescere. La cosa che mi fa stare sereno è che lui sta bene. A Milano Kier ha trovato equilibrio, entusiasmo, una dimensione che lo appaga. Il rinnovo fino al 2024 vale una dichiarazione di amore a vita. È stato un sogno per me, per l'Ungari qua e la squadra, la società che io volevo stare da quasi tutta la carriera. Ho sempre avuto la mentalità che posso migliorare, imparare ogni giorno. Il giorno che io non creda a quello devo smettere di giocare. Ho sempre avuto l'Ungari qua.